Salve a tutti, in questo video vi presenterò la nuova collezione Regalo. Questa stagione abbiamo tratto ispirazione dal koala, un animale dolce e tenero da proteggere, coccolare ed amare. Vi presento Kira e Kunky, due peluche morbidi e coccolosi. Kira, con il suo pelo chiaro, porta con sé il panettone classico, mentre Kunky, di colore scuro, contiene il panettone Regal Cioccolato. Ogni panettone è custodito all'interno del peluche prodotto da un lucchetto, che si potrà aprire con la chiave agganciata alla sciarpa di Kira e di Kunky. La nostra collezione Regalo è completata da una pratica shopper in pet reciclato, di tonalità abbinata ai nostri peluche. Abbiamo scelto il pet reciclato per ridurre l'impatto ambientale e per promuovere uno stile di vita sostenibile. Insieme a Kira e a Kunky saprete di aver fatto un regalo alla vostra famiglia, alla vostra amata, ai vostri cari, di qualità e al contempo di aver fatto una azione responsabile verso l'ambiente.